E salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video Quest'oggi ritorniamo a parlare di una macchina che è rimasta nell'ombra per tanto, tanto tempo Non ne parlavamo da novembre circa Ma in questi mesi, nel silenzio, io ho continuato a utilizzarlo come dispositivo principale sotto molti aspetti Stiamo parlando, logicamente, dell'iPad Pro Un dispositivo che Apple stessa sostiene possa sostituire al 100% un computer Che non possa sostituire al 100% un computer, l'abbiamo già appurato in moltissimi casi e in moltissimi video passati Però devo riconoscere che per esempio quando vado a scuola Che è normale utilizzare l'iPad a scuola O quando mi ritrovo a dover eseguire delle operazioni molto rapide Come per esempio comporre un foglio di Excel, inviare una mail, prendere appunti O anche banalmente gestire database, tabelle e cose simili Mi ritrovo ad essere molto più comodo con l'iPad piuttosto che dover tirare fuori il portatile e farlo da lì Ma l'iPad Pro, soprattutto con la sua wireless keyboard integrata Ha un problema che girovagando su internet in molti anni, compreso il sottoscritto E che io davo per scontato fosse irrisolvibile finché un giorno non mi sono detto Non faccio altro finché non riesco a risolvere questo problema Perché non è possibile che un iPad Pro da 2000€ abbia questi impuntamenti Lasciate che però vi mostri cosa intendo Soprattutto all'interno dell'applicazione Numbers Ma in realtà in qualsiasi applicazione di scrittura Queste tabelle non ve le posso mostrare perché ci sono dati privati, non solo miei Abbiamo aperto una nuova tabella di Excel Facciamo conto che io volessi scrivere un indirizzo email o uno username Instagram all'interno di questa tabella Cosa che per lavoro mi ritrovo spesso a dover fare Scriviamo il mio username di Instagram C'è una sorta di regolamento non scritto per cui in genere gli username di Instagram vanno scritti tutti minuscoli Ma come potete vedere se io scrivo con la tastiera hardware dell'iPad Pro La Smart Folio comprata direttamente da Apple La prima lettera, non importa quale essa sia La prima lettera di un paragrafo sarà sempre maiuscola Senza possibilità di renderla minuscola Vi faccio vedere Ho scritto Black Jiktuto ed ecco che la B me la messa maiuscola Mettiamo caso che io invece in questa nuova cella voglia la B minuscola Guardate io in genere in tutte le tastiere del mondo funziona così Mi son detto tengo premuto il tasto shift che mi fa il contrario rispetto al bloc maiusco che c'è attivo Premo la B e nonostante lo shift tenuto premuto me lo fa comunque maiuscola Ragazzi vi posso garantire che non c'è modo di cominciare un nuovo paragrafo con la lettera minuscola Se utilizzate la Smart Keyboard di Apple Vi faccio vedere anche banalmente andando per esempio su un sito qualsiasi per il login Se io dovesse inserire le mie credenziali all'interno di questo sito e magari metto la mia mail Come potete vedere la mail me la scrive con la maiuscola Che è una cosa che non si fa anche perché alcuni siti magari meno sofisticati non vi prendono i dati di login Dei rimedi diciamo della nonna per inserire la lettera minuscola al primo carattere Potrebbero essere quelli di scrivere magari la prima lettera che ve la fa comunque maiuscola Dopodiché riscrivete la prima lettera ve la fa minuscola poi con la freccettina vi spostate dove c'è la B grande e la cancellate Questo è un escamotage per risolvere momentaneamente questo problema Però io comunque se uso una tastiera hardware voglio essere libero di poter scegliere di iniziare con la maiuscola o con la minuscola E ho scoperto dopo un mese di ricerche che c'è una voce nelle impostazioni per regolare tutto ciò Infatti se io vado nelle impostazioni poi nella sezione generali e scorro nella voce tastiera La prima cosa che ho provato a fare è stata disattivare le maiuscole automatiche da qui Però poi ho notato con mio grande rammarico che una volta aperta di nuovo un'applicazione provando a scrivere qualcosa Non era cambiato assolutamente niente Questo perché non mi ero accorto che queste impostazioni che vedete qua sono per la tastiera software non quella hardware Per la tastiera hardware c'è la voce tastiera hardware qui dedicata che io non avevo visto Dove appunto anche qui esiste maiuscole automatiche Disattivando questa voce finalmente ho potuto notare che scrivendo in una nuova cella si comincia con il minuscolo Sono libero poi di poter scegliere di cominciare con il maiuscolo tenendo premuto shift Si scrive una qualsiasi lettera ecco che in questo caso me la dà maiuscola Ma è mia la scelta Se io voglio cominciare questa tabella con la minuscola non ho alcun tipo di problema a farlo Anche perché ragioniamo un attimo su questo Se io magari me ne dovessi accorgere dopo che ho iniziato la cella con una lettera maiuscola e volessi rimediare Non è proprio immediatissimo con il cursore portarsi dove c'è la B Perché vedete che prima me lo seleziona tutto Poi devo spostarmi col dito e solo adesso dopo il terzo tocco mi fa comparire la lente di ingrandimento A questo punto posso portarmi sulla B E comunque se l'opzione delle maiuscole automatiche dovesse essere attiva Anche se io mi portassi dove c'è la B la cancello e ripremo B Me la fa comunque maiuscola Dovrei fare un'altra B spostarmi indietro e cancellarla Quindi ragazzi se utilizzate l'iPad Pro con la tastiera Smart Folio di Apple O comunque con una tastiera esterna Il mio suggerimento è assolutamente di andare in impostazioni, generali, tastiera, tastiera hardware e disattivare le maiuscole automatiche Perché a mio parere questo bug che in realtà non è un bug, la cosa più preoccupante è che è una funzione È veramente una piaga per chi l'iPad lo usa per lavorare Quindi ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile Se è così fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su che mi renderebbe veramente felice Seguitemi su tutti i miei social network e come sempre il link ve lo lascio qua sotto giù in descrizione Cliccando qui e là che potete raggiungere altri miei due video E invece cliccando qui al centro vi iscrivete al mio canale Se lo fate siete dei grandi io vi mando un grande saluto e noi ci rivediamo in un prossimo video